Tesla. Sono supercar elettriche con super prestazioni e anche super prezzi e questo argomento per favore non affrontiamolo più. Sono macchine chiaramente che hanno dei listini molto elevati però oggi parliamo di usato quindi abbassiamo un pochino l'asticella ma non per questo trattandosi di macchine recenti vi posso garantire di parlarvi di offertone comunque si rimane su usati abbastanza onerosi ma che hanno dei vantaggi. Parlando con gli utilizzatori, clienti, persone che guidano da anni Tesla e che non tornerebbero più indietro all'endotermico ci sono svariati vantaggi nell'acquistare una Tesla usata. Il primo è che a parità di chilometri l'usura dei componenti di un'auto elettrica è molto inferiore a quella di un'auto con motore a combustione interna. Pensiamo ai cambi olio, ai filtri, ai radiatori, insomma tutto quello che su un'elettrica non c'è. E poi i tempi di attesa. Tesla è un po' famosa anche per tempi di attesa molto lunghi per le sue auto nuove magari per quelle di ultimissima generazione i modelli che ancora non sono arrivati sulle strade che tutti vogliono ecco bisogna aspettare tanto invece accontentandosi di un usato voi riuscireste a scegliere grosso modo la macchina che vi piace ad averla subito in garage attaccata alla colonnina. Terzo punto ultimo ma non per importanza il risparmio sui costi di gestione. Provate a fare un paragone con auto con motore a combustione interna da 3, 4, 500, 600 cavalli quanto costa il mantenimento. Ecco poi calcolate quello che invece costa una Tesla, una Model S per esempio. Quindi il gioco può valere la candela o il kilowatt. E ora vi parlerò un po' di usato. Quante ce ne sono in Italia? Beh il parco Tesla circolante è un po' difficile da calcolare anche perché moltissime auto che vedete sulle nostre strade hanno magari targa straniera perché si tratta di macchine cedute in leasing o noleggio a lungo termine da società appunto europee, tedesche, svizzere, inglesi, quello che volete. Quindi di fatto in Italia l'immatricolato è una cosa, il circolante è un altro. Comunque ne potreste vedere serenamente sul nostro territorio tra le 2 e le 300. Diversa invece l'offerta di usato. Infatti aprendo i più celebri siti di auto usate ne troverete non più di 40, 50, 60 tra Model S e le più recenti Model X lasciando stare chi già ha inserzionato una Model 3 magari come preordine. In media quanti chilometri all'anno fanno i clienti Tesla? Beh, tanti. Un po' perché gira voce che l'elettrico crea dipendenza. Quindi per esempio se con la vostra precedente auto a combustione interna facevate 40.000 chilometri all'anno, con una Tesla ne potete fare un po' di più, 45, 50.000 perché è più piacevole farne. Cioè si crea un meccanismo per cui siete incentivati a guidare elettrico. Vi sentite meglio, fare strada non vi pesa, vi sentite connessi con la vostra auto, rispettate l'ambiente. Insomma tutto questo genera chilometri. Poi come sapete chi utilizza Tesla spesso ha un contratto di leasing o di noleggio e quindi anche questo porta a fare qualche chilometro in più. Tanto la macchina non è mia, ogni tot la cambio, si va. Ma ci sono anche eccezioni che hanno portato all'acquisto di una Tesla come green flag. Nel tipo, avete visto? Ho preso una Tesla, sono interessato alle tematiche ambientali, non voglio inquinare, la mia azienda ed io siamo puliti. Quindi per scopi di rappresentanza. Ecco ci sono casi, quelli magari meno sinceri, che l'hanno acquistata ma di fatto non la usano perché utilizzano tutt'altri mezzi magari inquinanti e potete trovare in questo senso delle Model S per esempio con 10.000 chilometri in due anni, 20.000 in tre anni. Anche se, come ho detto all'inizio, in realtà il chilometraggio medio degli utilizzatori di Tesla è ben più elevato. Si parla di 50-60.000 chilometri all'anno e ci sono anche dei casi come il famosissimo taxista di Modena che ha superato i 700.000 chilometri di percorrenza con la propria Tesla e senza cambiare ancora il pacco batterie. Quali sono le annate migliori? Beh, confrontandomi, interfacciandomi con tanti clienti possessori di Tesla in questo periodo mi sono accorto, e lo dico nel senso buono, che sono dei gran viziati. Cioè, gli piace cambiare auto spesso, quindi i contratti di noleggio e leasing sono favorevoli in questo senso perché ogni due anni beneficiano del massimo della tecnologia possibile perché è quello che piace. Però, volendo anche parlare appunto di Tesla usate e quindi consigliare o sconsigliare alcuni periodi, beh, i pre-restyling, le primissime eccetera eccetera, non sono ben viste. Tutti consigliano di investire qualche soldo in più e guardare Tesla Model S per esempio a partire dal 2014-2015 meglio ancora del 2016. Quanto costa comprare una Model S usata e quale scegliere? Quasi nessuno mi ha consigliato di consigliare le Model S 60 o 75 kW per ragioni di autonomia o comunque perché non sarebbero il modo giusto per godere del mondo Tesla. E se proprio dovete fare un acquisto che risulta comunque un acquisto importante, partite almeno dalle 85. Per una 85 dotata di Autopilot One e magari delle annate migliori 2015-2016 con un chilometraggio adeguato, per adeguato intendo 100-150 mila, il chilometro per la Tesla Model S per un'auto elettrica così non è proprio importantissimo, però magari stiamo sotto i 100 mila chilometri, d'accordo? potrebbero non bastare 50-55 mila euro. Però parlando di piacere di guida, alcuni mi hanno suggerito di guardare anche la versione Performance, cioè le Tesla più performanti mai ideate, create, costruite, messe su strada da oltre 600 cavalli, che hanno prestazioni ancora migliori magari se scelte con la trazione posteriore. Ecco, si può trovare qualcosa a partire da 70-80 mila euro a salire, però questa differenza di prezzo, per chi le ha guidate entrambe, è giustificata dall'enorme godimento in quanto handling e accelerazione. Se sulla Performance vi ho incuriosito, se ne cercate una, ok, controllate le batterie, ma anche e soprattutto le sospensioni, perché le sollecitazioni di quest'auto a livello proprio di telaio, eccetera, eccetera, sono molto importanti. Mentre, se volete rimanere sulla 85 e magari prima di staccare l'assegno fare un test di efficienza delle batterie per verificarne l'autonomia, ecco questa dovrebbe attestarsi intorno ai 300-320 chilometri. Qual è un optional considerato davvero irrinunciabile? Il supercharge. Ecco, questa sarebbe stata la mia risposta fino a qualche anno fa e probabilmente fino a qualche anno fa sarebbe stata anche la preferenza di molti clienti, ma adesso il supercharge è al secondo posto, perché col passare del tempo il santo graal degli accessori della Tesla Model S, per esempio, è diventato l'autopilot con le sue evoluzioni AP1 e AP2, che chiaramente sono da preferire rispetto all'autopilot di primissima edizione. Mi una Model S usata o una Model 3 nuova? Beh, ormai l'avrete capito. Per mettersi in garage, ho sempre attaccato alla colonnina, una Tesla Model S usata, dalle giuste prestazioni o performance, allestimento, gioco di parole, ma vabbè, del colore adeguato con gli accessori che piacciono a voi, non bastano 50.000 euro. Possono essere necessarie 60, 70, 80.000 euro. E allora è lecito chiedersi, ma con questo budget posso serenamente comprarmi una Model 3 nuova? Ma la verità è che nessuno può consigliarvi quale sia l'auto giusta per voi? Dipende da che tipo di automobilista siete. Con una Model 3 nuova vi mettete chiaramente in garage il non plus ultra della tecnologia che offre attualmente Tesla. Non avete il supercharge, però tutto il resto è wow. Le dimensioni sono quelle giuste, è spaziosa al punto giusto, è bella da vedere. È chiaramente una macchina efficiente con il top anche di garanzia perché se l'acquistate nuova avete il massimo di copertura da parte della casa costruttrice. Se invece siete dei guidatori che sì hanno sposato la causa dell'elettrico, vi siete innamorati di Tesla, non tornereste più indietro, ma vi siete innamorati di Tesla perché la Model S con quelle prestazioni vi ha conquistato, allora lì ci si divide un po' perché di fatto se avete necessità di guidare un'auto che vi coinvolge, che accelera in maniera esaltante, che può avere prestazioni che molte supercar a benzina si scordano, ecco allora la Model S potrebbe essere l'usato che fa per voi rimanendo in quel budget. Dipende da cosa vi piace guidare e come vi piace guidare. Sono sicuro che avete tante domande e vi prego scrivetemele nei commenti perché come avete avuto modo di notare io leggo e poi assolutamente prendo spunto dai commenti, dai suggerimenti più utili e ce ne sono davvero tanti ogni volta, quindi grazie. Di fatto però su una questione non ha senso troppo ricamarci sopra. Queste, le Tesla anche usate, sono auto costose. Ma non credete, i clienti Tesla, nonostante magari per loro il budget è al secondo posto nelle preoccupazioni, apprestano il risparmio che queste macchine possono generare. Al di là dell'approccio ambientale, che questa è una sensibilità che va da persona a persona, ma guardando al portafoglio, provate voi a fare il calcolo di quanto costa di mantenimento. Bollo superbollo, una sportiva da 350-400, 600 cavalli. Una Tesla Model S, magari una performance da 600 cavalli, costa vagamente di meno. Praticamente bollo superbollo, ve li dimenticate. E poi sulle percorrenze, un pieno, lo abbiamo approfondito nel video precedente, con 25-27 euro, si percorrono 350-360-500 km a seconda della condizione. Non è affatto male. Per non parlare degli sgravi fiscali, dove, quando previsto, da provincia a provincia, comune a comune, ZTL, accesso illimitato, parcheggi strisce blu, gratis, assicurazione, mi faccio uno sconto. E poi, interfacciandomi con chi guida Tesla da tempo, mi sono accorto che è tipo la rivincita dei nerd. Ogni nuovo rilascio di autopilot, ogni nuovo autopilot, è atteso come i nuovi iPhone. Manco fosse Avenger con Endgame. Cioè, proprio sanno tutto, si informa, bellissimo, e diventa un motivo per cambiare la propria Tesla o fare il conto alla rovescia di quando scade il leasing o il noleggio, perché così arriva la nuova col nuovissimo autopilot, che tra l'altro, non so se avete letto, avrà una potenza di calcolo o la prossima generazione esagerata, riuscirà anche a prevedere le buche, così dicono. Ma vi piace a voi questo futuro? Scrivetemelo nei commenti. Al prossimo episodio Al prossimo episodio